Eccoci, buonasera a tutti, benvenuti alla 113esima serata di Lodi Liberale, che ormai vi accompagna ogni lunedì sera, ormai d'aprile, cercando di sviscerare tematiche liberali in ogni ambito, costume, economia, filosofia, politica, alimentazione, scienza e quant'altro, e cercando da settembre sostanzialmente di cercare di affrontare anche la presentazione dei classici del pensiero liberale, rifacendoci appunto ai maestri del liberalismo. Abbiamo iniziato con Libertà e la legge di Bruno Leone, per poi proseguire la democrazia all'America di Pocqueville, Capitalismo e libertà di Milton Friedman, Benjamin Costant, Conquista e esultazione, Mises, Socialismo e questa sera veniamo a Marco Minghetti con un libro che ha un titolo piuttosto lungo e credo di strettissima attualità e non solo il titolo, ovvero i partiti politici e la loro ingerenza nella giustizia e nell'amministrazione. Quando abbiamo pensato di dedicare un ciclo di questo tipo, ci eravamo ricollegati alla nostra sana abitudine di sostanzialmente ogni anno dedicare la tessera, la nostra tessera di modo liberale, a un tessatore di cui ricorrono anniversari di nascita e o morte. Nel 2018 ricorreva nei 200 anni della nascita di Marco Minghetti e quindi abbiamo deciso di, come potete vedere, credo insomma impressione si direbbe, di dedicare la nostra tessera del 2018 appunto a Marco Minghetti con una citazione che è di strettissima attualità. La logica non trionfa sempre nel mondo e rare volte nelle assemblee politiche. Discorso alla Camera dei Deputati appunto di Marco Minghetti. Noi siamo questa sera in presenza, credo si possa tranquillamente definire, di un gigante della politica italiana perché Marco Minghetti ha avuto un ruolo di primissimo piano nel governo della cosa pubblica, del governo del paese sotto vari ambiti. È stato Presidente del Consiglio, Ministro dell'Interno, Ministro dell'Agricoltura e dell'Industria e del Commercio, Ministro delle Finanze e deputato in nove legislature. E quindi credo che si possa tranquillamente riconoscere che sia stato uno dei protagonisti dell'Italia dal punto di vista politico, che ha compiuto tante cose intelligenti, interessanti, condivisibili, ma credo la più importante delle quali che è il motivo per cui all'epoca decidemmo come l'Odi liberale di dedicargli la tessera perché credo che sia, non credo, è a tutt'oggi l'unico che è riuscito a introdurre in Italia il pareggio di bilancio nei conti pubblici. E siccome credo che l'amministrazione del buon padre di famiglia non solo è di buon senso ma è sicuramente liberale, ricordare qualcuno che si è impegnato a costo anche di non badare al consenso politico, appunto a quadrare i conti che in qualunque azienda, famiglia, in una realtà privata, personale, familiare associativa, diciamo che è il faro guida di ogni amministratore, di ogni tesoriere, di ogni persona che ha a che fare con il tratto uscito. Nella politica ad ogni livello non è propriamente faro guida, ovviamente nelle amministrazioni locali e regionali per forza, perché fisidologicamente bisogna chiudere in qualche modo il pareggio, diciamo che nello Stato centrale questa buona norma, buona prassi, non è propriamente utilizzata. E ad oggi è l'unico primo ministro che ha chiuso sostanzialmente il bilancio di pareggio, quindi in un'epoca in cui il debito pubblico sta esplodendo, in cui il deficit di bilancio sembra essere ancora paradossalmente nel 2020 un'arma keynesianamente per poter sviluppare l'economia quando dovrebbe essere ben chiaro il contrario, annetto dell'emergenza pandemica che è in corso e quindi che costruisce una fisiologica eccezione e anche condivisibile anche dal punto di vista liberale. Ma insomma, ricordare chi invece ha applicato il buon governo economico anche dal punto di vista dei conti pubblici credo che sia assolutamente importante. Ma poi ci sono tanti altri motivi per ricordare Ningheppi che ha avuto a che fare anche questo di stretta qualità con quello che può essere tranquillamente riferito trasformismo e ogni riferimento a tutto ciò che sta accadendo oggi è puramente voluto. Nel senso non casuale, il trasformismo è stato da allora in avanti e fino ad oggi, compreso una caratteristica purtroppo della nostra classe parlamentare che, a netto della discussione sul vincolo di mandato che può essere dotta finché vogliamo, ma insomma essere eletti da una parte per poi passare dall'altra, diciamo che ha caratterizzato il malcostume dal punto di vista della classe politica parlamentare. Ma questo volume è importante per molti aspetti e io intanto ringrazio i nostri relatori perché abbiamo invitato Raffaella Gheraldi che credo si possa tranquillamente definire la massima spesta italiana del pensiero di Marco Minghetti, ha scritto molto, ha pubblicato molto di Minghetti, ha curato pubblicazioni. Insomma, la professoressa credo che a Minghetti abbia dedicato una parte fondamentale della propria vita, oltre che del proprio insegnamento. Mi ricordo quando gli chiesi la prima telefonata che gli feci per proporre una cosa del genere rispose con entusiasmo. Finalmente si ricorda una figura fondamentale del nostro paese e che neanche la propria città ha celebrato degnamente e quindi questo poi magari ci racconterà la professoressa del perché, quindi ringrazio la professoressa Raffaella Gheraldi che è professoressa di storia dell'ottrina politica dell'Università di Bologna. Ringrazio anche lui un nuovo innesto, un nuovo contributo all'Oddi Liberale che è il curatore dell'edizione più recente probabilmente dei partiti politici che venne pubblicata qualche, quindi curatore e prefattore del libro che presentiamo questa sera, che venne pubblicata ormai quasi, credo vent'anni fa, dalla Società Libera, che è esattamente 97, quindi del più di vent'anni fa, ormai ventiquattro anni fa, da Società Libera, che è un'associazione che da tanti anni cerca di contribuire anche essa alla diffusione del pensiero liberale e quindi un'interessante prefazione, decise di curare questa repubblicazione importante, quindi ringraziamo il professor Carlo Ranieri e ringraziamo chiaramente invece un ritorno all'Oddi e all'Oddi Liberale, che è il professor Stefano Bruno Galli, vicente in storia delle dottrine politiche dell'Università degli Studi di Milano, nonché temporaneamente perché, come già riscordato, come dire, Antonio Martino, quando gli chiedemmo se chiamarlo ex ministro o professore, gli dice, io professore me lo sono meritato sicuramente e questo rimane. Incarichi pubblici vanno e vengono e quindi oggi temporaneamente assessore alla cultura, ma confermato nel nuovo rimpasto di Regione Lombardia, quindi come dire, incarica pienamente, e quindi ringraziamo Stefano, è già venuto all'Oddi Liberale a ricordare la figura di Gianfranco Miglio, di cui è un discepolo, ammiratore e diffusore, e poi insomma venne anche a Lodi, in quel caso organizzato dal Comune di Lodi, per ricordare un'altra figura importante, quella di Baclavabel, di cui aveva praticamente pubblicato un libro, l'anno scorso noi come Comune dedicammo una mostra al pensiero di Baclavabel. Quindi credo che abbiamo tre relatori assolutamente di eccezione per concentrarci su un libro e su una figura di un liberale doc, probabilmente e ingiustamente trascurato, poco conosciuto, poco valorizzato, e a cui si pensa poco quando si devono pensare a pensatori liberali e politici liberali italiani. E invece è uno dei modi per colmare questa lacuna, credo che possa essere, perché ha avuto la voglia, o avrà la voglia di seguirci nei prossimi giorni, siamo in diretta Facebook, rimarrà su Facebook e poi pubblicheremo il video della serata come al solito su YouTube, credo che stiamo facendo un servizio importante alla valorizzazione appunto di questa importante figura. Quindi cedo volentieri la parola alla professoressa Gherardi, che ringrazio per la sua partecipazione a questa serata. Grazie, ha già ricordato, sono felice della mia felicità di essere qui, perché in effetti tutto questo mi riporta non solo al mio percorso scientifico, accademico, da una vita che mi occupo di Marco Minghetti, dopo aver curato i suoi scritti politici, che faccio vedere qua, ma vedete come sono tormentati con tanti post-it, perché ogni volta ci ritorno, ogni volta che mi chiedono qualche intervento di carattere anche generale, sui tipi di trasformazione dello Stato, eccetera, non riesco a non partire da Minghetti. E siamo nell'86 degli scritti politici, l'occasione del primo centenario della morte, e c'era stato un convegno internazionale promosso da uno dei miei grandi maestri, cioè Nicola Matteucci, e qua a Bologna che faceva il perno sul tema Minghetti uomo politico e pensatore politico europeo. Ecco, quel convegno suonava così, 86. Il mio percorso ovviamente è continuato a lungo e fino all'ultimo libro, che è del 2016, che di nuovo suona così appunto Marco Minghetti, il liberalismo e l'Europa, perché in effetti non si riesce a pensare a Minghetti che in una prospettiva molto ampia, sia politica che culturale, che fa riferimento non solo al suo paese, ma all'Europa intera, e poi anche agli Stati Uniti, perché anche gli Stati Uniti naturalmente sono oggetto delle sue considerazioni, come risulta anche dall'opera di cui noi stasera presentiamo. D'altra parte mi corre l'obbligo appunto della convinzione di uno dei grandi maestri dell'Italia del Novecento del pensiero politico liberale, cioè Nicola Matteucci appunto, era un suo cruccio questo fatto del come mai Minghetti, una figura come Minghetti fosse assolutamente finita nel dimenticatoio. Infatti ricordo una sua opera pubblicata all'inizio del nuovo millennio che si chiamava Filosofi politici, sulla filosofia politica contemporanea, dove lui accanto a figure come Fonayek o Nozick, l'ultimo saggio del volume si intitola Un liberale dimenticato Minghetti. Quindi dopo, a finire, se c'è un po' tempo sul dibattito, dirò anche qual era la tesi di Matteucci per la dimenticanza del suo paese di Minghetti e qual è anche la mia, quale sarà la mia. Perché, al di là che sono felicissima che addirittura la tessera di Lodi liberale sia dedicata a Minghetti, questo è un bellissimo segnale, ma effettivamente anche il centocinquantesimo dell'unità ha significato poco per l'Italia, quanto attenzione per una figura di questo genere. Carlo Guarnieri lo sa perché l'abbiamo costruito insieme, siamo stati fra i promotori. A Bologna, alla Facoltà di Scienze Politiche, abbiamo fatto nell'occasione del centocinquantesimo di nuovo un convegno su Minghetti e la sua attualità. Adesso non ricordo bene quale fosse il titolo preciso, mi pare, partiva dal problema della nazione per proiettarla all'Europa e alla politica contemporanea. Anche quello, un convegno internazionale che ha avuto risalto dal punto di vista accademico, ma molto poco dal punto di vista della città e comunque anche del paese. Non si capisce bene perché. Bene, speriamo di dare un piccolo contributo anche questa sera. Perché in effetti non c'è non solo quest'opera, i partiti politici e la ingerenza loro nella giustizia e nell'amministrazione, che già come titolo suona quanto estremamente attuale, no? Ma anche le sue opere precedenti sono veramente, portano a quest'opera e sono veramente importanti e fanno centro su alcuni temi della politica contemporanea assolutamente ineludibili. Basti pensare appunto alla sua prima grande opera dell'economia pubblica e della sua attinenza con la morale e col diritto. Un'opera che viene tradotta subito in francese, prefatta dai massimi esponenti dell'economia contemporanea e che suscita in Europa un grande dibattito. Così come quell'immediatamente precedente, Stato e Chiesa del 78, i partiti politici dell'81, anche questa viene discussa in tutta Europa, recensita in tutta Europa, tradotta in tedesco, tradotta in francese. E quindi rimane un bel punto interrogativo del perché appunto Minghetti, grande pensatore politico europeo e come tale riconosciuto, poi si è finito nel dimenticatoio. Così come naturalmente anche la sua figura di uomo politico ha già ricordato il vice sindaco i suoi importanti ruoli politici e d'altra parte ci ha rimesso in prima persona, no? Perché il pareggio del bilancio, dopo alcuni giorni che aveva dato l'annuncio del pareggio del bilancio il suo governo è caduto, no? Con una bella alleanza fra una costellazione del suo stesso partito, la destra storica e la sinistra liberale. Quindi però dopo lui non ha smesso naturalmente di occuparsi di politica, di essere politico attivo in senso alto, tant'è vero che le prime leggi di legislazione sociale in Italia portano anche la sua firma. E poi insieme con De Pretis è inventore del trasformismo, ma naturalmente, ma naturalmente, e lui si ferma molto su questo, però non possiamo partirne da questo perché è qualcosa d'altro rispetto alla sua opera, ma insomma visto che è stato accennato, ribalta l'accusa di trasformismo dicendo che invece lui intende trasformazione se la politica non può voler dire stare a roccarsi sulle proprie posizioni pregiudiziali. Quindi alla luce della scienza, delle scienze, è possibile una trasformazione, una trasformazione delle varie partite politiche che non rinunciano ai propri principi, però in nome di quelli che sono gli interessi riconosciuti del paese e sono possibili delle alleanze. E quindi ribalta in positivo l'accusa che gli viene fatta dagli avversari di trasformismo. Però arriviamo invece all'opera dei partiti politici e la ingerenza loro nella giustizia e dell'amministrazione. Lascio a Carlo e a Bruno Galli dopo di parlare più specificamente in dettaglio di singoli punti, in particolare Carlo che è uno dei grandi esperti dei temi della giustizia appunto in questa prospettiva. Ma io vorrei dire appunto alcuni elementi dal punto di vista del metodo proprio di Minghetti, che è il metodo che sta alla base dei partiti politici così come sta alla base dei suoi grandi scritti politici precedenti e che è il metodo che lui sempre costantemente rivendica a se stesso e che i massimi commentatori contemporanei hanno riconosciuto. Allora il metodo è quello di una stretta contaminazione fra esperienza politica attiva e analisi della politica in modo serio. Quindi se io dovessi veramente riassumere in proprio uno slogan per questa serata relativamente alla figura di Minghetti direi la sua costante battaglia, proprio la sua polemica contro quelli che gli definisci politicanti che o sono preda dei loro specifici interessi o comunque finiscono se invece si agganciano a principi generali astratti validi per tutti i tempi in tutti i luoghi finiscono per diventare quelli che li definisce degli arruffa popolo. Allora la politica è una cosa seria. La politica va attentamente studiata da parte di chi la studia senza pregiudiziali di sorta e per far questo appunto non bisogna avere gli occhiali né di utopie astratte né di ideologie astratte che non si contaminano, che non si contaminino sempre costantemente con quella che è l'analisi della realtà. Un'analisi fatta in che modo? Fatta attraverso il nuovo metro della scienza, delle scienze. Devo ricordare e questo è specificamente questa sfida lanciata proprio nei partiti politici che è tanta la convinzione di Minghetti in questo senso che non basti un approccio astratto, generale, generico alla politica che uno fra i primi in Italia che sottolinea la necessità di fondare una nuova facoltà di scienze politiche e amministrative. Quindi non è più sufficiente non solo parlare in astratto secondo teoremi pregiudiziali della politica ma neanche parlarne secondo una prospettiva di carattere meramente giuridico perché anche le scienze giuridiche, pure importanti, pure hanno bisogno di qualcosa d'altro. Quelle che le definisce scienze politiche amministrative e ne elenca anche una serie che dovrebbero finire in una eh essere insegnate in una facoltà eh di scienze politiche e amministrative appunto. Questa sfida sarà molto lunga da vincere perché in Italia soltanto con il fascismo che verrà fondate delle facoltà di scienze politiche a Bologna che noi conosciamo bene Carlo e io perché l'abbiamo fatto insieme il trentennale della facoltà di scienze politiche per esempio è del sessantaquattro del millenovecentosessantaquattro fondato una facoltà di scienze politiche. Quindi Emighetti si trova subito a dibattere con coloro che invece vorrebbero insegnare sì le scienze politiche e sociali però insegnarle in una facoltà di giurisprudenza. Carlo Francesco Ferraris per esempio è su questa seconda posizione. E ecco perché allora poi questa sua attenzione alla scientificizzazione dell'analisi politica ha un rapporto dell'analisi politica seria, seria con le scienze e in particolare con le scienze politico-sociali, le scienze giuridiche, naturalmente nelle scienze politico-sociali, ovviamente l'economia eccetera che è quella più strutturata. Allora in quel contesto si capisce perché il fondatore della scienza politica cioè Gaetano Mosca riconosca in Mighetti un maestro. Nella teorica dei governi, il governo parlamentare, l'opera in cui si apre, fonda la scienza politica, Mosca cita più volte Mighetti. Quando mi sono occupata del ritorno della biblioteca Mighetti a una struttura pubblica, Matteucci aveva trovato che parte della biblioteca Mighetti era ancora nelle mani di un privato, poi è stata acquisita ed ora è all'università, quella parte della biblioteca. Ho trovato anche molti discorsi del giovane Mosca che mandava sempre costantemente dedicati a Mighetti. Quindi il fondatore della scienza politica riconosce Mighetti un maestro, anche se naturalmente lui dice che l'opera a cui fa riferimento è proprio l'opera di cui parliamo stasera, dei partiti politici e la ingerenza loro nella giustizia e nell'amministrazione. E cosa dice Mosca di Mighetti? Dice che l'analisi di Mighetti è giusta, cioè che, come dice nell'opera, che si è insito nel sistema parlamentare il fatto che ci siano indebiti e ingerenze, si tentino indebiti e ingerenze da parte dei vari partiti in sfere che dovrebbero loro essere strane, cioè nella giustizia e nell'amministrazione. Questo è un vizio italiano, ma non solo italiano, dice Mighetti. Così come la sua denuncia di Mighetti, dice Mighetti stesso, non è originale perché in tanti in quel periodo parlano della stessa cosa. In Italia e in Europa. E però, guarda caso, Mosca fa riferimento a quest'opera. Su cosa non è d'accordo con Mighetti? Sul fatto che il giovane Mosca dice che il sistema parlamentare, insomma, ha molte falle, arriva a negare il sistema parlamentare stesso, mentre Mighetti dice non porta alle estreme conseguenze quella che è la sua spietata analisi, perché naturalmente Mighetti salva il sistema parlamentare, lo difende a spada tratta, perché riconosce che il sistema parlamentare è imprescindibile nelle condizioni della civiltà contemporanea. Anche se c'è una rivincita della tesi di Mighetti sul Mosca maturo, perché negli elementi di scienza politica e nelle edizioni successive, dopo un'esperienza come quella del fascismo, lo stesso Mosca arriverà a salvare il sistema parlamentare, a proporne dei correttivi, però a dire anche lui, come aveva detto uno dei suoi riconosciuti maestri, cioè Mighetti, che nelle condizioni attuali il sistema parlamentare è il sistema che meglio si adegua alle condizioni della civiltà contemporanea. Quindi ecco il tema su cui vorrei porre l'accento. Allora, la complessità della politica, la complessità di un'analisi seria della politica che è l'unico sistema per battere quello che gli definisce le ideologie di cui si fanno poi carico gli arrufapopoli. Quindi coloro che non vogliono una riforma del sistema politico ma vogliono abbatterlo dalle fondamenta. E quindi l'unico modo per resistere a questi è effettivamente studiare scientificamente la politica, vedere quali sono le falli, i problemi che ci sono all'interno e proporre delle soluzioni scientifiche, di carattere scientifico. Questo non per dire che ci debbano essere i tecnici a potere, per carità, assolutamente, ma comunque per misurarsi invece con le analisi che vengono fatte da un punto di vista di carattere strettamente scientifico. Però se c'è la critica di Mighetti agli arrufapopolo, alle ideologie pregiudiziali, a tutti i sistemi belli e compiuti che non prevedono un rapporto con la realtà, la stessa critica egli fa a partire da una dimensione diversa, naturalmente a coloro che per mestiere fanno la politica, che sono protagonisti della politica, al che tempo non era per mestiere, cioè che si occupano della politica attiva, nel senso che altrettanto è allergico Mighetti all'empirismo, al mero empirismo, nelle proposte di carattere politico. E quindi allora che cosa è necessario? È necessario che l'uomo di Stato sia qualcuno che sa di scienza, così come lo scienziato non si arrocchi, lo scienziato politico-sociale, non si arrocchi nelle accademie e nelle università, ma sia pronto a sporcarsi le mani, ma sia pronto a misurarsi con la realtà effettuale. Questi sono i due elementi su cui egli insiste costantemente e che vengono recepite largamente dai contemporanei. Basti pensare che quest'opera, sui partiti politici, in gerenza loro, nella giustizia e nell'amministrazione, viene immediatamente recensita, proprio nell'anno in cui è uscita, da una grande, era giovanissimo allora, ma insomma da un grande giurista e poi uomo politico, cioè Vittorio Emanuele Orlando. E Vittorio Emanuele Orlando cosa dice? Vittorio Emanuele Orlando dice di quest'opera che quest'opera è molto importante perché per la prima volta in Italia noi abbiamo un pubblicista che in Italia non si dà mai, cioè che è al tempo stesso grande uomo politico e grande pensatore politico, e grande studioso di politica. Dice che invece una figura di questo genere non è estranea all'Inghilterra e dice che lì si dà invece più frequentemente questa contaminazione fra chi sa analizzare scientificamente la politica, sa analizzare i suoi problemi dal punto di vista teorico e chi poi invece fa l'uomo politico anche. Mentre invece lo stesso Vittorio Emanuele Orlando dice qui da noi le due funzioni sono assolutamente separate e c'è un'analisi politica che si avvita su se stessa, che non si contamina mai con la realtà, direttamente con la realtà, e ci sono gli uomini politici che fanno analisi meramente empiriche, propongono rimedi di dettaglio. Questo dice Vittorio Emanuele Orlando. Tant'è vero che si spinge oltre, andando in specifico nell'analisi, perché è una recensione molto lunga, si spinge oltre dicendo che la introduzione a quest'opera di Minghetti dovrebbe essere copiate, ricopiate e diffusa in tutto il paese, e diffusa in tutto il paese, proprio per evitare, per far sì che l'opinione pubblica evitasse questi due errori. E quindi ecco il tema della complessità della politica, non solo dal punto di vista dell'analisi, ma anche dal punto di vista di coloro che debbono poi occuparsi di proporre dei rimedi per i problemi che la politica di volta in volta incontra. E quindi questo è un elemento su cui viene molto battuto l'accento da Vittorio Emanuele Orlando, ma anche da tutti i suoi contemporanei, perché basterebbe andare a vedere anche da punto di come vengono recepite anche le altre opere, anche State Chiesa, oppure l'economia pubblica, che sempre viene sottolineato questo aspetto, che è l'aspetto che Minghetti stesso mette costantemente in evidenza dal punto di vista metodologico, dal punto di vista strettamente metodologico. Non ha paura naturalmente dei principi, sui principi tiene ben fermo naturalmente, però poi dice che, per esempio i principi dell'analisi economica, le leggi dell'economia, però dice che poi devono queste vedere l'applicabilità delle leggi stesse. Così come dal punto di vista dei suoi principi liberali, quello che nel rapporto fra il cittadino e lo Stato si debba costruire, non può essere determinato a priori. Questo lo ripete costantemente in quest'opera, così come nelle altre, suoi maggiori o nei suoi scritti minori. Nel senso che l'analisi storica dimostra che ci sono stati dei tempi, per esempio nel rapporto fra il cittadino e lo Stato, in cui in tempi e in periodi storici diversi o in paesi diversi, si poteva assistere al fatto che lo Stato avesse un ruolo più o meno grande nei confronti del cittadino, oppure il cittadino lo avesse di più. E questo come si fa a vedere? Si deve analizzare il periodo storico di cui si parla e la situazione di cui si parla. Egli fa per esempio in Stato e Chiesa proprio questo esempio. Sono stati dei periodi in cui la Chiesa è stata subordinata allo Stato oppure viceversa. E oggi cos'è? Oggi nelle condizioni attuali, nelle condizioni della civiltà attuale, non è possibile che la separazione fra Stato e Chiesa. Quindi questo è ciò che corrisponde alle condizioni della odierna civiltà. E quindi anche in relazione al tema di cui stasera parliamo, cioè partiti politici e la ingerenza loro nella giustizia e l'amministrazione. Il problema è proprio quello del sistema parlamentare. Perché il sistema parlamentare a che cosa corrisponde? Naturalmente c'è il binomio la civiltà contemporanea, il sistema parlamentare. Minghetti è assolutamente convinto di questo binomio che sia imprescindibile il sistema parlamentare nella luce dei progressi della civiltà contemporanea e che quindi si tratti di farne vedere quelli che sono i problemi e poi dopo studiarli in dettaglio e vedere qual è la soluzione. Allora, naturalmente appunto lascio tutta la parte sulla giustizia a Carlo e anche poi più in dettaglio anche le altre parti. Comunque questo imprinting metodologico mi portava molto metterlo in evidenza. Relativamente poi anche all'amministrazione per fare vedere proprio qual è il suo approccio, no? Il suo approccio è veramente un approccio a 180 gradi. Un approccio innanzitutto europeo, no? Perché non solo dobbiamo andare anche alla sua figura di uomo politico naturalmente perché quando egli si fa portavoce del fatto che affinché appunto questi mali possano essere se non evitati totalmente ma comunque tenuti sotto controllo l'importanza del decentramento amministrativo, no? Di cui Minghetti ovviamente si fa artefice però dobbiamo tenere presente che Minghetti stesso che pure artefice di uno dei progetti più intelligenti più ampi di decentramento amministrativo precedenti l'unità dopo l'unità non li presenta egli stesso perché ritiene la situazione ancora troppo fragile troppo immatura perché possono essere applicati, no? E quindi c'è sempre anche questa attenzione all'applicabilità dei progetti che egli stesso fa figuriamoci poi dopo quelli che dice lui sono nati altrove questo non voglia dire che bisogna confrontarsi con quelli perché per esempio da punto di vista dell'amministrazione egli dice molte volte anche nell'opera sui partiti politici non abbiamo idea degli studi e degli esempi che la Germania dà in questo contesto ma poi non solo la Germania l'Inghilterra altri paesi gli stessi Stati Uniti quindi un contesto internazionale di levatura estremamente ampia con cui Minghetti si confronta contemporaneamente con la consapevolezza che nessuno ma nessuno di questi sistemi può andare bene per l'Italia perché? Perché sicuramente le condizioni sono assolutamente diverse rispetto a questi paesi che pure vanno studiato per vedere vanno studiati per vedere quali sono le proposte che ci sono state applicate però sempre consci del fatto che sicuramente la realtà italiana è qualcosa d'altro e che quindi bisogna trovare la contaminazione giusta alla risposta giusta alla luce delle risposte che altri hanno saputo dare che altri hanno saputo dare e della conoscenza specifica naturalmente del paese su cui questi verranno applicati quindi questo è un elemento assai importante molto molto importante quindi uno dei concetti su cui insiste appunto quello rimedino sempre rimedi di nuovo egli dice che i mali che noi verifichiamo in casa nostra non sono solo in casa nostra cioè dell'ingerenza in debita dei partiti nella giustizia e in amministrazione sono anche altrove è tipico del sistema parlamentare però il sistema parlamentare è quello che meglio risponde alle esigenze della società contemporanea e quindi ne vanno attuati ne vanno cercati i rimedi rimedi che poi egli propone vedremo grandi relatori che mi seguono più in dettaglio però ripeto anche con questa avvertenza sulla base delle proposte che Menghetti stessi fa per esempio quella del decentramento amministrativo sulla verificare in concreto se ci sono le condizioni per l'applicabilità delle sue stesse proposte e quindi questa è un'attenzione estremamente ampia perché torna fuori un elemento che vorrei sottolineare ancora questa sera che è il concetto proprio di trasformazione di trasformazione in Menghetti rincorre sempre sia nel dibattito politico e ve l'ho già detto prima ricorrendo quella che è la sua difesa contro l'accusa di trasformismo dicendo basta che però per trasformismo non intendiate trasformazione perché invece la trasformazione va sempre tenuta d'occhio sempre la trasformazione nei fatti la trasformazione delle cose da punto di vista politico economico sociale eccetera è nelle cose non c'è mai un punto di arrivo e quindi è proprio quella trasformazione che va tenuta presente tanto più quella grande trasformazione che egli vede che è sotto i suoi occhi cioè di un di un'economia di una società di una politica che ha a che fare con degli elementi impensabili soltanto pochi decenni prima pochi decenni prima dal punto di vista della realtà effettuale che l'Italia vive chiaramente prima si trattava di fare l'unità poi l'unità raggiunta adesso si tratta di costruire lo stesso paese ma poi per le grandi trasformazioni che ci sono state nel resto del mondo egli pensa per esempio e lo dice più volte lo scrive più volte lo sviluppo delle comunicazioni il fatto che il mondo è diventato un mondo dal punto di vista dell'economia per esempio per cui egli dice che una crisi economica ma lo dice veramente nella nell'economia pubblica del 59 una crisi economica nata negli Stati Uniti poi ha contraccolpi incredibili nel resto del mondo e fa un'analisi delle crisi economiche di un'attualità incredibile allora la trasformazione è nei fatti alla luce della trasformazione no a tutte le ipostatizzazioni questo è un altro punto veramente importante e allora qual è l'obiettivo quello del comunque consolidare le istituzioni naturalmente le istituzioni sono le istituzioni liberali quelle in cui lui crede fermamente quelle che naturalmente nel rapporto il cittadino lo Stato chiaro che pongono l'accento sul cittadino piuttosto che sullo Stato ma senza i paraocchi però senza dire che c'è una ricetta che va bene per tutti i tempi in tutti i luoghi perché lui parla per esempio dei servizi pubblici che per quello che riguarda le ferrovie la questione su cui è caduto appunto come uomo politico come il fatto che ci siamo fatti le chiedo magari di arrivare alla conclusione di la soddisfazione arrivo arrivo perfetto grazie e quindi qual è l'obiettivo finale appunto il consolidamento delle istituzioni la formazione di un'opinione pubblica di un'opinione pubblica attenta naturalmente quella in cui lui crede quella che naturalmente impedisce il fatto che i partiti vadano per i fatti loro naturalmente e impedisce anche quello che può essere un rischio lui allievo uno dei suoi grandi maestri è Alexis de Tocqueville naturalmente e sa bene che anche nelle società democratiche nelle società quella democrazia è un elemento inevitabile anche per lui come per il suo maestro sarà un elemento inevitabile per l'avvenire quello che se le istituzioni diventano non sono più salde così come altrettanto l'opinione pubblica e allora c'è il rischio degli arruffa popolo di pericolose minoranze e tutte queste cose che sono veramente comporterebbero lo scacco di quel sistema politico liberale in cui lui crede fermamente questi sono alcuni punti che mi premeva mettere in luce anche per i partiti politici sulla base di quello che è un messaggio che mi sembra che trappeli in tutta l'opera minghettiana grazie per essere grandi poi magari visto che la sua relazione era densa faremo un secondo giro di tavolo così almeno poi completa la sua esposizione intanto la ringraziamo prima di siedere la parola al professor Granieri io sono sempre adicuato a lasciare parlare gli autori che presentiamo ogni partito tende naturalmente a esercitare un'ingerenza indebita nella giustizia e nell'amministrazione e ciò al fine di conservare di estendere la sua propria potenza gli effetti che da questa indebita e ingerenza derivano sono gradissimi e producono perturbazioni e gli attura ai diritti e agli interessi dei cittadini che le istituzioni libere sarebbero invece destinate a tutelare ogni costituzione e ogni buon governo deve avere per il scopo di rendere la giustizia uguale a tutti e di amministrare nel solo intendo del pubblico bene e questo è quel che più sta a cuore del popolo il quale sente che da ciò dipende l'ordine la sicurezza e la prosperità andiamo avanti il difetto che noi ci proponiamo di emendare consiste nell'indebita e ingerenza del partito politico rappresentato dal ministero e dalla maggioranza parlamentare nella giustizia e nell'amministrazione la imparzialità della magistratura e il rispetto del quale questa deve essere accompagnata dovunque è la prima e sostanziale condizione del viver libero il primo fondamento dell'indipendenza della magistratura sta in quella prerogativa che chiamasi inamovibilità o irrevocabilità quella prerogativa cioè che la legge attribuisce ad un pubblico ufficiale per la quale colui che ne è investito non può esserne privato fuorché per i spontanea rinunzia per colpa o per morte naturale o civile non basta che il giudice non possa essere privato nel suo ufficio uopo è ancora che non possa essere trasferito ad arbitrio di luogo in luogo e le ultime due parmi manifesto che il rimettere all'arbitrio del ministro i trasferimenti di sede dei giudici sia una facoltà grandemente pericolosa e contraglia quello stabile assetto che esercita tanto prestigio nelle popolazioni e che noi desideriamo come argomento di matura civiltà e in ultimo bastano alcune nomine o promozioni fatte a volta di cervelli politici per confondere il sentimento della gerarchia ed offendere diritti o giuste aspettative e così così la speranza di avanzamenti precoci e il timore di abbandoni immeritati meno la indipendenza della magistratura bisogna dunque che la legge stessa disponga di tutte queste cose che le nomine e le promozioni siano fatte con certe garanzie sarei molto curioso di sapere cosa ne pensa di dinamica del consiglio superiore della magistratura Minghetti se fosse vivo ma con questo cedo volentieri la parola al professor Guardieri che ringrazio grazie ringrazio anche per l'invito molto e magari parleremo un attimo anche del consiglio superiore perché no alla fine magari del mio intervento beh innanzitutto ringraziare il professor Gradi che ha messo molto bene a fuoco la metodologia di Minghetti la sua analisi si basa appunto su analisi empirica concetti e dimensione comparata un aspetto molto importante Francia Germania in Gran Bretagna sono continuamente dei punti di riferimento non per essere presi a modello da imitare ma per essere presi come punti di riferimento da cui apprendere ecco io credo che il libro l'intervento di Minghetti vada anche inserito nel contesto in cui lui operava è un contesto caratterizzato in Europa in Europa continentale dalla transizione da regimi assolutisti regimi non costituzionali a regimi costituzionali e poi a regimi parlamentari quindi questa è un pochino la storia dell'ottocento dal punto di vista istituzionale in Europa continentale e questa transizione doveva fare con una magistratura con una magistratura con degli apparati amministrativi e con una magistratura che si erano formati erano stati costruiti e formati sotto regimi non costituzionali sotto regimi assoluti quindi uno dei problemi principali che i liberali si trovano ad affrontare nel corso dell'ottocento è quello di come costituzionalizzare degli apparati che erano stati abituati a lavorare in un regime non costituzionale un regime in cui il sovrano poteva a discrezione derogare dalle regole del diritto poi magari il sovrano poteva anche essere particolarmente illuminato e derogare solamente raramente ma il principio restava quindi questo fatto che non esistesse una garanzia dei diritti fosse in realtà appaltata o gestita da un sovrano da un centro di autorità non responsabile ecco questo è un punto importante è un punto che metterà anche un pochino in crisi i liberali perché i liberali ottocenteschi perché si trovano a dover intervenire su corpi organizzati e costruiti e in spesso di una cultura non liberale non costituzionale e quindi si trovano anche a non poter garantire immediatamente tutte quelle garanzie che diciamo in astratto a meno di principio giudici in una magistratura avrebbe il diritto di ottenere un regime costituzionale nel caso italiano poi la situazione era ancora più complicata perché il caso italiano è un caso in cui il processo di unificazione si sovrappone al processo di costituzionalizzazione e quindi i liberali italiani si trovavano non solo a fare i conti con magistrature formate in regimi non costituzionali perché a parte il Piemonte che aveva avuto una breve esperienza costituzionale dal 1848 tutti gli altri stati italiani erano fino al 1859 o anche fino al 1866 e 70 e appartenevano a regimi non costituzionali si trovano a dover intervenire a fare i conti con strutture amministrative con degli apparati che non sono nati sotto il costituzionalismo ma anzi sotto principi e obiettivi diversi ma poi si trova anche i liberali italiani si trovano anche a dover gestire l'unificazione gestire l'unificazione e gestire il consolidamento di tanti apparati amministrativi quei 7-8 apparati amministrativi che facevano parte dei vari stati questo naturalmente quali conseguenze ha? Ha conseguenze che soprattutto in una prima fase le esigenze della politica chiamiamola così quotidiana fanno agio sulle esigenze di costruzione di magistratura indipendenti quindi abbiamo in una prima fase abbiamo nomine politiche abbiamo interventi del ministro quegli interventi che vengono citati da appunto criticamente da Minghetti nel passo che lei prima citava quindi interventi continui che inizialmente si giustificano con la necessità di potremmo dire di salute pubblica di mantenere di diciamo così costruire degli apparati amministrativi che fossero leali nei confronti del nuovo ordinamento ma che poi diventano pretesto per interventi di tipo partigiano e in questo modo e qui il punto qui l'argomento di Minghetti ovviamente è uno dei punti principali del suo volume in questo modo si mette a rischio l'imparzialità dei giudicanti e quindi si indebolisce o anzi si cancella addirittura in certi casi la garanzia giudiziaria cioè la garanzia fornita da giudici imparziali che si trovino a giudicare tutte le controversie in cui il cittadino si trova ad essere coinvolto controversie nei confronti dei privati ma controversie soprattutto nei confronti del governo del potere pubblico e questo è il punto su cui diciamo così Minghetti interviene interviene con una serie di diciamo di terapie di raccomandazioni diciamo ricette se vogliamo chiamarle che riguardano non solo il ruolo dei giudici le garanzie dei giudici e quindi l'indipendenza l'inamovibilità la presenza di regole certe per le promozioni per le assegnazioni tutti questi elementi importanti appunto per garantire al giudice di poter giudicare senza speranza e timore senza il timore di sanzioni ma anche senza la speranza di promozioni perché sappiamo benissimo che ci sono due c'è il bastone c'è la carota sono due modi e tutti e due sono due strumenti molto pericolosi per influenzare e influire negativamente sull'imparzialità dei giudici quindi indipendenza che è strettamente legata all'imparzialità allargamento della giurisdizione introduzione della giustizia amministrativa questo è un punto fondamentale su cui Minghetti tra l'altro in consonanza anche con altri esponenti della destra storica batte il tasto il fatto che non contrariamente a quello che è un diciamo un'adozione un po' scolastica del principio di separazione dei poteri che appunto voleva impedire alla magistratura e alla giustizia di immischiarsi nelle faccende dell'amministrazione questo è il sto traducendo un pochino approssimativamente da le norme emanate dalla convenzione francese della rivoluzione alla fine del settecento bene contrariamente a una concezione un po' scolastica che impediva al giudice di intervenire su questioni amministrative invece è necessario ampliare la giurisdizione ampliare la competenza della magistratura a giudicare tutte quelle controversie che possono mettere a repentaglio le libertà del cittadino le libertà e quindi anche le proprietà la proprietà come uno dei diritti ovviamente fondamentali quindi allargamento tra giudice e indipendenza educazione formazione educazione già la professoressa Gerardi ha sottolineato come Minghetti sia particolarmente ai problemi della formazione direi che quasi è un antesignano per quanto riguarda la formazione giuridico amministrativa amministrativa e giuridica o meglio una formazione come diceva prima il professore Sagherardi che metta l'accento non solo sul diritto ma anche sulle scienze sociali quindi da questo punto di vista il Minghetti è sicuramente un precursore perché ci vorranno più di mezzo secolo per arrivare perché per carità le facoltà di scienze politiche fondate durante il fascismo risentivano ancora molto non tutte ma risentivano in buona misura nell'ideologia del regime ecco per cui bisognerà poi arrivare al periodo republicano per avere qualche riforma finalmente in un certo peso quindi questi sono gli elementi importanti ecco io metterei ora di allargare un po' il discorso e di dare una valutazione su in che misura le proposte la direzione di riforma Minghettiana è stata poi recepita in seguito beh da certi punti di vista mentre proprio mentre la professoressa Gherati parlava e faceva riferimento a Gaetano Mosca mi è venuto in mente il famoso ultimo uno degli ultimi discorsi di Gaetano Mosca al Senato mi sono sbaglio nel 1925 in occasione della discussione delle famose leggi fascistissime quando Mosca si alzò e disse non avrei mai creduto di dover fare l'elogio del sistema parlamentare e continuava facendo un elogio dicendo puntualizzando che lui aveva tutte le carte in regola per fare l'elogio perché ne aveva anche criticato le degenerazioni ma questo non voleva dire fare a meno del sistema parlamentare anzi il sistema parlamentare era molto importante anche dal punto di vista di Mosca dicevo quali sono stati gli sviluppi ulteriori della realizzazione di Mosca direi che queste in parte le indicazioni di Minghetti sono state recepite in seguito soprattutto non tanto nell'immediato fino alla fine dell'Ottocento i poteri del ministro nei confronti della magistratura restano molto ampi soprattutto i poteri di trasferimento e vorrei far riflettere sul fatto che i poteri di trasferimento potrebbero essere altrettanto micidiali dei poteri di licenziamento perché stiamo parlando di un'Italia in cui i trasporti pubblici ancora erano diciamo così molto imperfetti ed essere tramutati dalla mattina alla sera da Palermo a Udine non era certo una cosa che un povero magistrato potesse affrontare a cuor leggero quindi diciamo la capacità del ministro di influire anche se il ministro non poteva diciamo così licenziare rimuovere un magistrato poteva però appunto destinarlo a una sede così disagiata quindi bisogna arrivare in realtà alle riforme Orlando Orlando sarà guarda sigilli all'inizio all'inizio del novecento alcuni governi giuditti e bisogna arrivare lì per trovare delle prime misure di garanzia anche nei confronti dei trasferimenti e nei confronti delle promozioni poi arriverà il fascismo il fascismo congenerà un pochino il processo di riforma della magistratura anzi tornando un po' indietro non tanto ampliando i poteri del ministro quando quanto diciamo così inserendo la magistratura in un assetto rigidamente gerarchico un po' secondo l'idea del regime nel dopoguerra invece il pensiero di Ninguetti in questo senso non più su Ninguetti ha avuto una sua realizzazione le garanzie di indipendenza sono state fortemente aumentate la giustizia amministrativa che già è stata introdotta alla fine dell'ottocento è stata riconosciuta anche dalla costituzione ha avuto un ulteriore sviluppo e così via di recente si è anche cominciato a parlare di una formazione specifica per i magistrati c'è però un punto che vorrei sottolineare che serve anche a capire molte cose anche di quelle che stanno accadendo in questo momento la nostra magistratura come molte magistrature dell'Europa continentale è una magistratura che si basa su un personale che viene scelto viene reclutato in età molto giovane di solito dopo gli studi universitari e viene inserito nel corpo e nel corpo viene noi diciamo noi studiosi di istituzioni viene socializzato all'organizzazione socializzato all'istituzione impara il mestiere per dirlo in maniera più semplice impara il mestiere lavorando dentro il corpo e questo avveniva sotto la direzione o sotto la tutela o sotto l'orientamento non so usate voi il termine dei magistrati più anziani perché considerati più esperti questa era la situazione tipica dell'Europa continentale di più nell'ottocento c'era anche l'influenza del ministro un'influenza che poi lentamente si circoscrive e tende così a essere ridotta progressivamente nel tempo questo era oggi l'assetto che prevale in paesi come la Francia e la Germania più o meno con alcune varianti in questo momento inutile che ne stiamo a esporre la grande differenza è invece con i paesi anglosassoni nei paesi anglosassoni prima di tutti la Gran Bretagna ma anche negli Stati Uniti in tutti gli altri paesi che fanno capo alla Comunerò nei paesi anglosassoni i giudici non sono scelti fra neolaureali ma sono scelti fra avvocati di solito di discreta notevole esperienza soprattutto quelli delle corti superiori quindi da questo punto di vista i giudici anglosassoni i giudici Comunerò non hanno tanto bisogno di un processo di formazione di un processo di socializzazione organizzativa al di là di quello che può essere i rudimenti anche perché spesso hanno diciamo così hanno abitato gli uffici giudiziari fin da decine d'anni se prende che dove in Inghilterra per essere nominato giudice bisogna avere almeno una decina di anni di esperienza come avvocato non si può essere nominato giudice quindi questo per dare l'idea dipende poi dai vari livelli e così che quali sono e quindi nel caso nel caso dei paesi di Comunerò nel caso dei paesi anglosassoni il giudice arriva diciamo così in tribunale arriva a ricoprire la carica avendo già un bagaglio professionale molto robusto per cui di solito in quei paesi non esistono forme di socializzazione organizzativa che diano ai giudici di grado più elevato un potere particolare per carità la magistratura è un po' molto vicina all'avvocatura quindi spesso è anche un po' un club un club più o meno esclusivo nel caso britannico è proprio un club esclusivo nel senso che tenga presente che i giudici delle corti superiori che sono poi quelli che trattano i casi più gravi sono qualche centinaio in Inghilterra mica di più siete a un numero molto ristretto si conoscono tutti io mi ricordo parlavo una volta con un giudice mi chiesi ma come fate voi a gestire oralmente la maggior parte delle cause e anche un numero notevole di cause ma non è un grande problema dice io ho fatto l'avvocato per vent'anni dice quando io so benissimo come ragionano i miei colleghi loro sanno benissimo come ragiono io loro arrivano da me presentandomi il punto su cui verte la controversia loro sanno benissimo che non mi devono raccontare delle balle non disse questa espressione non mi devono far perdere tempo perché io so come lavorano loro loro sanno come io quindi facciamo tutto in maniera molto rapida ecco questo per dare l'idea un po' del tipo di comunale bene nel caso invece dei paesi dell'Europa continentale dicevo i magistrati vengono recutati in età giovanile e tradizionalmente venivano socializzati ad opera dei magistrati di grado superiore naturalmente questo aspetto questo fatto poteva creare dei problemi perché il fatto che i magistrati di grado di maggiore anzianità avessero un ruolo nella valutazione delle prestazioni dei magistrati inferiori e alla fine avessero un ruolo importante nelle cosiddette promozioni nella carriera dei magistrati creava delle tensioni ha creato delle tensioni ha creato delle tensioni un po' dappertutto in Europa continentale ma le ha create soprattutto in Italia in Italia queste tensioni sono state molto forti e hanno portato in parte alimentate dal fatto anche che nel caso italiano l'esperienza del fascismo aveva un certo permesso l'alta magistratura diciamo gli alti gradi e aveva un po' compromessi con il regime e questo ha portato a una forma che hanno introdotto in quello che viene chiamato l'autogoverno il governo autonomo della magistratura cioè il CSM tutto bene il problema che il CSM si è trovato soprattutto a partire negli ultimi 30-40 anni si è trovato a dover di fatto gestire carriere dei magistrati in altre parole a decidere delle promozioni e poi anche delle assegnazioni per quanto riguarda le promozioni e gli avanzamenti di carriera che cosa è successo? è successo che appunto il Consiglio Superiore anche grazie a un'attività di pressione nei confronti del Parlamento e del Governo è riuscito a ottenere la possibilità praticamente di valutare i magistrati e di promuoverli uso termine in maniera non tecnica devo dire così ma senza alcun vincolo numerico in altre parole il CSM può promuovere se volete usare questo termine che non è scorretto fare tutti i cavalieri todos cavalleros ed è quello che è avvenuto per un motivo molto semplice perché i rappresentanti i componenti del CSM soprattutto due terzi dei componenti del CSM sono magistrati eletti dai magistrati quindi se volete si è creato una specie di conflitto di interessi fra dentro i magistrati presenti nel Consiglio Superiore che li spinge necessariamente all'archeggiare nelle promozioni questo però che cosa ha avuto come conseguenza ha avuto come conseguenza che una cosa è essere promossi di grado cioè io sono tenente capitano maggiore colonnello una cosa poi sono incarichi concreti sono un maggiore che comanda il gruppo carabinieri di Agrigento o la legione di non so di Viterbo dico faccio dire naturalmente e qui il problema nasce lì quando bisogna nominare il capo della procura X o il presidente del tribunale Y le cose diventano un po' più diciamo delicate perché grazie alle promozioni al fatto che ormai i magistrati vengono promossi in vari gradi di fatto automaticamente senza alcuna alcun baglio competitivo quando si va a decidere di nominare Tizio Caio o Sempronio alla procura X o al tribunale Y i fascicoli di questi signori sono quasi tutti uguali in altre parole sono fascicoli che non danno particolari informazioni circa le loro capacità di gestire in maniera efficace ed efficiente le produzioni e qui arriva se volete un sacco dei partiti e oggi anche delle famose correnti cioè dei sindacati della magistratura quindi se noi oggi riprendessimo il libro di Minghetti o anzi facessimo una seduta spiritica come qualche volta chiamassimo Minghetti direbbe ma qua c'è l'ingerenza dei partiti politici e delle correnti giudiziarie direbbe ecco cioè dei sindacati ma è lì quindi il meccanismo è quello perché si è ricreata una situazione che certo non è più la situazione dell'Ottocento non abbiamo più il pretore poverino che deve prendere la civita vecchia al vapore per finire in Sardegna perché è stato punito dal cattivo ministro queste cose non esistono più per fortuna per carità tutto bene però di nuovo abbiamo un problema il problema che Minghetti aveva indicato cioè il fatto che promozioni e sanzioni ma soprattutto promozioni fossero gestite a discrezione dai partiti o dalle correnti aggiungiamo noi perché abbiamo visto questi 150 anni ecco questo è un problema che rimane il problema che rimane è che mette a repentaglio l'immagine di imparzialità e l'immagine di imparzialità del giudice e mette quindi a repentaglio la garanzia giudiziale la garanzia dei diritti dei giudizi ecco credo di essere arrivato sopra i 20 minuti no? professor Guarnieri io prima di dare la parola al professor Galli volevo appunto aggiungere un altro aspetto sulla giustizia poi introduco sempre con le parole di Minghetti prima di arrivare al professor Galli se è utile e necessario che una legge regoli lo stato degli impiegati tutti dell'amministrazione e di a loro sicura e guarantige questa necessità e di utilità si manifesta in sommo grado quanto si tratta della magistratura giudicatrice e il medesimo dico e zian dio della legge sulla responsabilità loro parendomi errore voler esentare il magistrato da ogni colpa di dono o di violazione di legge insomma è la responsabilità civile penale dei magistrati con 140 anni di anticipo del 1881 questo volume ma per arrivare alla passione del professor Galli faccio una citazione che è un po' più lunga e poi lascio volentieri la parola apparisce la tentazione del partito che ha il governo di insinuarsi nell'amministrazione e di valersi di questo potente mezzo e dei flussi così frequenti ad estesi per assicurarsi durevole potenza in questo caso è troppo facile che l'interesse pubblico venga sottoposto all'interesse di partito e di coloro che lo compongono ma siccome oltre che sottolineare come grandi pensatori il problema cerca di individuare anche le soluzioni per tre modi si può temperare la perniciosa ingerenza di che parliamo e correggere negli effetti il primo diminuendo le attribuzioni dell'amministrazione pubblica e lasciando la libertà individuale all'iniziativa privata la cura non solo degli interessi parziali e locali ma in parte degli interessi generali col primo di questi mezzi si toglie per così dire la materia soggetta all'abuso quindi come dire un minghetti liberista che articola meglio potrebbe adunque il pregio di fare una rivista di tutte le leggi e di tutti i regolamenti vigenti nel regno con lo scopo chiaro e determinato di cancellare ogni disposizione che vincoli la spontaneità del cittadino e non sia necessaria all'ordine sociale e dico tale disposizione se ne treverebbero non poche allora le quali possono essere tolte di mezzo o modificate nel senso di lasciare maggior libertà al privato senza che perciò ne corra alcun pericolo l'andamento della cosa pubblica ma con questo rimedio che pure noi suggeriamo come utile di scemare le forze del governo accrescendo la libertà e di sua natura lento onde sembrerà taluni che meglio possa convenire all'uopo e sia più pratico l'altro metodo che abbiamo indicato e veniamo alla seconda soluzione tanto cara al professor Galli ovvero decentrando l'amministrazione inguisa che essa sia guidata e compiaciuta localmente e da enti morali autonomi ovvero si tronchi l'azione diretta del ministero del parlamento sull'amministrazione locale quando insomma con il professor Galli che appunto un'opera che è un buon amministrativo ogni tanto confronto e spiego le iniziative di Lodi Liberale bene o male gli avevo spiegato che insomma tendenzialmente avevamo introdotto la presentazione di classici del pensiero liberale gli avevamo fatto come una prospettiva degli autori che avremmo voluto trattare appena sentito il nome di Minghetti il professor Galli ha detto con Minghetti ci voglio assolutamente essere perché è uno dei primi che ha introdotto in maniera seria almeno il tema del decentramente per un federalista autonomista e quant'altro come si spiega il professor Galli credo che questo sia importante riuscire a sottolinearlo quindi ringrazio il professor Stefano Buro Galli e gli cedo volentieri la parola sì grazie io saluto la professoressa Gerardi il professor Guarnieri e anche Lorenzo Maggi e tutti gli amici di Lodi Liberale per questo incontro ma soprattutto per questo percorso di riscoperta dei classici del pensiero liberale che mi sembra un'operazione quanto mai importante appunto poi stasera parlando di Minghetti ha maggior ragione importante per il sottoscritto io concordo e sono particolarmente d'accordo con quello che diceva la professoressa Gerardi in apertura cioè il fatto che Minghetti sia davvero un pensatore europeo è l'inventore dell'idea di regione evidentemente Minghetti senza giustificazioni relegato nel dimenticatoio per cui io credo che sia necessario esprimere un sentimento scientifico di gratitudine nei confronti della professoressa Gerardi e anche nei confronti del professor Matteucci di cui ci ha parlato all'inizio professor Matteucci che così io colloco davvero nel pantheon dei grandi studiosi della seconda metà del novecento insieme a Bobbio insieme a Miglio insomma poi alla fine sono pochi che abitano questo pantheon mio personale ma c'è anche il professor Matteucci e sono particolarmente d'accordo con la professoressa Gerardi quando sostiene giustamente che nella figura di Minghetti convivono l'esperienza politica e il tentativo di una elaborazione teorica e dottrinaria che trae origine dall'esperienza politica questo fa la differenza rispetto a quelli che appunto Minghetti chiamava i politicanti perché mette a fuoco questo tentativo di studiare la politica scientificamente e studiarla con metodo al di là appunto dell'esperienza di carattere personale io personalmente mi sono imbattuto nei partiti politici Minghettiani partendo da vent'anni prima cioè partendo dal tornante storico del 1861 dal 13 marzo 1861 da quell'altissimo discorso che fa Minghetti in Parlamento nel momento in cui presenta i suoi primi quattro disegni di legge nella sua qualità di ministro degli interni per la riorganizzazione amministrativa del regno e appunto nel suo discorso che vorrei citare da qui volevo prendere le mosse sostiene la formazione dell'unità d'Italia con tanto mirabile rapidità è un fatto così grandioso che non ha riscontro nella storia ma la varietà notevolissima e secolare delle leggi delle tradizioni delle abitudini che vi regnarono sino ad allora rende assai arduo il trapasso alla sua unificazione legislativa e civile il problema che abbiamo a sciogliere due punti trattasi di accordare alle varie parti del regno le massime franchigie amministrative possibili perché rimanga integra anzi si consolidi l'unità nazionale che fra tanto i pericoli e con tante fatiche abbiamo conquistata ora queste franchigie in altri termini il discentramento amministrativo può operarsi in due modi dando cioè ai comuni alle province maggiore attribuzione maggiore libertà di azione di quello che ebbero sinora ovvero delegando alle autorità governative locali molte facoltà che sogliono osservarsi dal governo centrale i disegni di legge con l'onore di proporvi hanno l'un e l'altro di questi due intendimenti cioè aveva davvero nelle sue corde quello che eh Cattaneo ha definito l'unità nella diversità cioè l'obiettivo di garantire l'unità tutelando eh la diversità e ehm quando eh immagina questa eh costituzione eh come dire a catena partendo dal comune che è l'ente storico eh più tipico della storia d'Italia appunto la grande invenzione della Valle del Po è proprio quella del del comune immaginando le le province come eh consorsi di comuni e le regioni come consorsi di province eh davvero eh ha un'intuizione di carattere profondamente liberale perché dobbiamo calare l'intuizione di Minghetti nel clima del suo tempo il clima del suo tempo qual è? è quello che eh dal punto di vista della storia delle istituzioni politiche in quel momento eh il dibattito è ancorato a un articolo che nel 1852 Cesare Correnti pubblica sul nipote di Vesta Verde che è un almanacco e che appunto si intitola Anatomia delle regioni italiche dove individua 16 regioni che eh sarebbero poi state assunte come base di suddivisione amministrativa della penisola nel 1861 da Pietro Maestri nel momento in cui Pietro Maestri avrebbe dovuto compilare il primo annuario statistico eh del Regno d'Italia e quindi questa suddivisione di carattere amministrativo rispondeva più a dei criteri di carattere eh burocratico statistico che non ha dei seri studi di carattere storico culturale linguistico etnico eh questo era il livello del del dibattito in quel momento cioè eravamo ancora ancorati al tema di Cesare Correnti nel momento in cui Minghetti arriva con la sua proposta della soluzione consortile ehm nel risolve il clivage centroperiferia in un modo davvero autenticamente liberale perché riconosce alle comunità territoriali la prerogativa di stare con chi vogliono in base alla loro storia ai loro costumi alle loro tradizioni linguistiche culturali appunto alle loro tradizioni storiche e io trovo quando Amiglio dice che bisogna riconoscere la prerogativa di stare come si vuole con chi si vuole ecco la soluzione consortile di Minghetti nel momento in cui immagina e teorizza queste sei macroregioni è macroregioni che sono profondamente diverse non hanno nulla a che fare con le macroregioni alle quali una tradizione di pensiero avrebbe poi pensato appunto nella quale è sicuramente collocabile anche Miglio ma macroregioni che non hanno nulla a che fare neanche con le regioni pensate da Cesare Correnti che sono le attuali regioni di oggi perché alle origini del regionalismo italiano c'è una grande contraddizione che è quella di essere ancorati alla suddivisione amministrativa della penisola pensata da Cesare Correnti nel 1852 adottata da Pietro Maestri nel 1861 ratificata con reggio decreto da Giolitti nel 1911 e fatta propria in assemblea costituente nel momento in cui si apre il dibattito sul tema della suddivisione amministrativa della penisola ci si scontra e non si trova di meglio da fare che non ratificare il regio decreto del 1911 questa è la tradizione la storia della suddivisione amministrativa della penisola ecco Minghetti si colloca davvero su un piano diverso su un piano più alto su un piano dal punto di vista teorico e dottrinario sicuramente più sofisticata perché non dà conto delle ragioni di carattere burocratico statistico le quali a lui proprio non interessano nulla e cerca di anteporre alle ragioni di carattere burocratico statistico le ragioni sostanzialmente di vocazione dei territori a stare con chi vogliono e io trovo che questa soluzione consortile cioè immaginare l'unione di provincia i consorsi di provincia come alla base della suddivisione della penisola sia davvero un'intuizione di cioè un'intuizione autenticamente liberale da questo punto di vista e che probabilmente appunto la storia ha imboccato la storia delle istituzioni in questo paese ha imboccato tutto un'altra un'altra strada che ci ha portati davvero ben lontani da Marco Minghetti e dalla sua grande intuizione ha imboccato la strada a cominciare dalle leggi sull'unificazione amministrativa del 1865 in cui si è adottata la struttura legislativa amministrativa del regno di Piemonte e Sardegna e sostanzialmente si è imposta al resto della penisola l'idea di Minghetti era davvero quella di tutelare i territori che venivano che erano stati progressivamente conquistati attraverso questo disegno di carattere di espansione militare da parte del regno di Piemonte e Sardegna e questo accordo perverso tra il regno di Piemonte e Sardegna e il regno delle due Sicilie che erano le uniche due realtà che avevano a che fare con lo stato centrale per cui il resto dei territori della penisola erano periferia di altri pensiamo al Lombardo Veneto che era periferia dell'impero e di conseguenza l'estensione quello che Emilio ha definito il tentativo di mettere sulle spalle di un gigante il vestito di un nano era quello di adottare di estendere all'intera penisola per esempio lo Statuto Albertino andando oltre le esigenze e credo che il professor Guarnieri da questo punto di vista mi possa dare ragione essendo il progetto di espansione di Casa Savoia basato su delle procedure di adesione consensuale partecipativa il referendum di annessione questo stesso atto dal punto di vista giuridico tecnico giuridico avrebbe comportato la convocazione di un'assemblea costituente all'indomani della proclamazione dell'unità cosa che non si fece e quindi diciamo le tradizioni dei sette stati preunitari venivano sostanzialmente calpestate da questo disegno di estensione delle normative di un piccolo regno quale era il regno di Piemonte e Sardegna all'intero corpo della penisola la soluzione consortile minghettiana avrebbe tutelato riconoscendo a ogni consorzio provinciale a ogni realtà provinciale la possibilità di consorziarsi con altre realtà avrebbe tutelato le appunto le sfumature le tradizioni storiche le tradizioni civiche quelle che ha studiato Patran dal 1970 fino al 1990 e che poi ha pubblicato nel 1992 avrebbe consertito di tutelare i modelli di cultura di comportamento la mentalità collettiva cioè quelle tradizioni che tenevano effettivamente insieme le comunità riconoscendo loro la libertà di associarsi e questa io la trovo davvero una grande intuizione un'intuizione alla quale sarebbe stato fedele sostanzialmente per tutta la vita e lo spiega bene nel passo che citavi tu Lorenzo a proposito appunto dei partiti come una delle tre gambe della sua riforma diminuire le attribuzioni dell'amministratore dell'amministrazione decentrare l'amministrazione e ammettere i ricorsi da giudicare da una giurisdizione autonoma indipendente queste erano le tre gambe della sua elaborazione teorica e dottrinaria fatta sulla base di un'esperienza politica che era quella che aveva maturato nel tornante decisivo della primavera del 1861 io trovo che i partiti e l'ingerenza loro nella pubblica amministrazione e la giustizia siano un grande libro visto che ne abbiamo diffusamente parlato soprattutto ne abbiamo diffusamente parlato questa sera siano un grande libro sul tema della divisione dei poteri cioè sia davvero uno dei grandi manuali dei grandi studi sulla divisione dei poteri e intercetta proprio sulla base della propria esperienza diretta nella sua qualità di ministro degli interni intercetta il necessario cambio di passo che bisogna fare in quel tornante in quel ventennio dal 1861 al 1881 quando dal parlamento subalpino bisogna passare a un parlamento autenticamente nazionale in cui davvero siano in cui sia necessario andare oltre la destra storica e la sinistra storica per garantire i diritti di libertà di tutti i cittadini si amplia il bacino da questo punto di vista allora è evidente che le istituzioni del vecchio regno di Piemonte e Sardegna non sono più adeguate e da questo punto intercetta davvero la crisi del parlamentarismo e la crisi del vecchio partitismo appunto quello della destra e della sinistra storica io sono particolarmente d'accordo con la professoressa Gherardi quando la professoressa Gherardi parla di trasformazione cioè Minghetti è protagonista vive dal di dentro un processo profondo di trasformazione e lo intercetta dal punto di vista proprio del suo pensiero tant'è vero altrimenti non avrebbe detto vi cito un altro passaggio quando nel 1861 presentai un disegno di legge sul riordinamento del nuovo regno d'Italia vi introdussi un elemento nuovo che era la regione dico nuovo rispetto all'ordinamento amministrativo vigente che storicamente la regione aveva antichissime tradizioni sì nel medioevo sì presso i romani l'opportunità del disegno per quel tempo traevasi da questo motivo principale che la unificazione amministrativa non doveva a mio giudizio farsi affrettatamente impero che avrebbe ferito come ferì molti interessi avrebbe offeso molte abitudini e suscitò molte animaversioni e perciò la regione era principalmente un organo transitorio affinché si operasse lentamente il trapasso da sette legislazioni e ordini di diversi e ordini diversi secondo i diversi stati a coordinamento ed unità ha perfettamente presente qual è il problema vero della primavera del 1871 e 61 qual è il problema vero? è che esistono sette strati preunitari con sette epicentri di carattere politico con sette classi politiche differenti con sette classi dirigenti differenti con sette sistemi di poteri forti differenti e lui dice ci vuole una transizione verso l'unificazione e appunto il tema della destra e della sinistra storica delle istituzioni dei partiti è un problema davvero che attraversa questo meccanismo di trasformazione e appunto Minghetti ha davvero nelle corde ha davvero questa grande sensibilità che cerca di teorizzare dal punto di vista dottrinario nel suo libro e ha perfettamente chiaro la consapevolezza che la degenerazione dell'istituto parlamentare nel momento in cui si deve allargare a livello nazionale e la degenerazione del sistema dei partiti destra e sinistra storica avrebbe prodotto quella tirannide della maggioranza di cui parlava il suo grande maestro in fondo Tocqueville e John Stuart Mill erano i suoi grandi punti di riferimento e appunto lui avrebbe avrebbe sicuramente questo momento di trasformazione avrebbe sicuramente creato le condizioni per imporsi una sorta di tirannide della maggioranza da questo punto di vista che era appunto il pericolo da evitare nel modo più assoluto e Luigi no compagna in un bellissimo saggio che conosce bene sicuramente la professoressa Gherardi ha scritto che nel nefasta gli pareva già allora la spinta dei partiti a controllare l'amministrazione al fine di adoperarla per mantenere e espandere il consenso elettorale che è un po' il tema di cui abbiamo parlato questa sera e questo inevitabilmente ci riconduce a un tema che è davvero molto attuale io quando si parla di pensatori soprattutto di pensatori classici a livello europeo come Minghetti sono sempre molto prudente nel momento in cui si tratta di rintracciare l'attualità di un pensiero perché trovo che un pensatore sia il prodotto di un'epoca abbia delle sollecitazioni abbia delle e quindi sia da collocare da lasciare là però una riflessione come quella che fa Minghetti a proposito della degenerazione del sistema partitico che si riversa sulla degenerazione del parlamentarismo è inevitabile che sia attuale anche se Minghetti lo lasciamo là come straordinario interprete di una stagione di trasformazione che è appunto quella dal 1861 al 1881 e allora inevitabile il riferimento all'articolo 67 della Costituzione laddove si dice che ogni membro del Parlamento rappresenta la nazione ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato ma siamo sicuri che sia davvero così oggi cioè la politica oggi come oggi è davvero come la pensava Minghetti il perseguimento dell'interesse generale oppure è l'interesse generale è una sorta di mistificazione ideologica una grande mistificazione ideologica perché oggi come oggi la politica si configura come un conflitto perenne tra diverse aggregazioni di interessi una volta vincono delle aggregazioni di interessi e tutelano appunto gli interessi di cui sono portatori un'altra volta vince un'altra aggregazione di interessi e tutela un altro tipo di interessi che li sostengono e li tutelano non è che il tema dell'interesse generale sia davvero un grande abbaglio perché i partiti che sono sostanzialmente i veri portatori del potere politico che non sono costituzionalmente disciplinati hanno davvero determinato l'attuale crisi del sistema parlamentare secondo me se dovessimo trarre una lezione dall'esperienza dei minghetti e dire su che cosa ci fa riflettere secondo me ci fa riflettere su questo tema cioè esiste davvero l'interesse generale davvero la politica è il perseguimento del bene comune il bene comune esiste davvero oppure la politica si configura come un conflitto fra diverse aggregazioni di interesse una volta prevale l'uno una volta prevale l'altro e perché se noi osservassimo anche le vicende voglio dire di oggi di domani ce lo certificano probabilmente il tema dell'interesse generale è ben lontano dall'obiettivo fondamentale della nostra classe politica io volevo finire citandovi un passaggio di Miglio a proposito del professor Miglio a proposito di Minghetti che appunto anche lui adorava Minghetti per le sue sensibilità regionaliste che erano così lontane dalle nostre sensibilità odierne e in un libro che è l'ultimo suo libro prima del 1999 che è una bella ricostruzione molto agile puntuta della storia d'Italia che è l'asino di Buridano nella prima parte è una ricostruzione della storia d'Italia a proposito di Minghetti dice Minghetti era forse lo statistista italiano più colto in quegli anni tribolati ma gli mancò la fermezza nel difendere le sue opinioni per la verità nel 1881 si tolse il gusto di pubblicare un libro in cui espose in modo organico le sue vedute sulla necessità del decentramento e soprattutto sul problema della difficoltà di mantenere la divisione dei poteri in uno stato parlamentare i partiti politici e l'ingerenza loro nella giustizia e nell'amministrazione questo saggio rimane esemplare per chi voglia capire quanto vecchi siano i problemi istituzionali di questo paese è lapidaria la conclusione del capitolo che Miglio dedica a Marco Minghetti e credo che sia sufficiente per appunto inquadrarlo e capire ripeto io sono sempre prudente quando si tratta dell'attualità di Machiavelli l'attualità di Monteschi secondo me sono tante volte si dicono delle cose improprie nel caso di Minghetti invece dobbiamo effettivamente riconoscere che dall'esperienza storica che visse da protagonista trasse delle elaborazioni dal punto di vista teorico e dottrinario che secondo me sono ancora un punto di riferimento oggi come oggi e questo trovo che sia un grandissimo insegnamento grazie assolutamente assolutamente sì grazie professor Galli e nonostante appunto nel libro c'è la valutazione la valorizzazione del decentramento credo che si possa spingere oltre a definirlo quello che oggi si potrebbe definire federalismo fiscale provo a fare una citazione allargare le attribuzioni dei corpi locali e dare a queste maggiori libertà quanto maggiori sono le attribuzioni che si vogliono dare a un ente locale tanto bisogna assicurarsi che esso abbia le forze corrispondenti a benereggerlo dico le forze non solo morali ma materiali cosicché l'ordinamento amministrativo dei comuni e delle province si collega in modo indissolubile all'ordinamento loro finanziario dovrebbe esaminare se da che punto l'attribuzione degli enti locali possono essere ampliati certo ci sono delle funzioni che il governo non può delegare ad alcuno la difesa della patria la rappresentanza esterna il mantenimento del diritto privato e pubblico l'osservanza generale delle leggi la giustizia e la finanza ma altre funzioni potrebbero essere delegati e in certi paesi al ministero dell'interno la polizia preventiva le carceri di custodia la sanità pubblica da quello dei lavori pubblici le strade le acque i porti minori da quello dell'agricoltura industria e commercio la navigazione interna le foreste la caccia e la pesca infine tutto parte del pubblico insegnamento delle biblioteche degli archivi ma questo decentramento richiede una forza materiale morale proporzionata nell'ente che assume le predette funzioni io non so se questo può essere come dire definito federalismo fiscale ma sicuramente ci va molto ci va molto ci va molto soprattutto per quanto riguarda biblioteche archivi so che tocca una corda della tua sensibilità esatto allora adesso prima di magari cedere velocemente un secondo giro ci sono due persone che vorrebbero fare un intervento il primo è il professor Marcus Krinke a cui cedo volentieri la parola che è già stato nostro redatore ma insomma in questa invece questa sera è in forma di appassionato insomma quindi prego Marcus a te la parola grazie mille Lorenzo grazie per la possibilità di intervenire e come vedi mantengo la mia promessa del buon proposito 2021 di seguire con grande piacere devo dire non come dovere questi appuntamenti di lunedì sera grazie mille a tutti i tre i relatori cerco di essere molto prevo ovviamente come il professor Galli ha detto bisogna essere cauti nelle rapide attualizzazioni di pensatori bisogna essere altrettanto cauti nel delineare le linee storiche di un pensiero però ciononostante andrei un po' in questa direzione nell'altro lipo di Minghetti sull'economia lui si riferisce a Rosmini soprattutto sul concetto della proprietà privata in molti concetti soprattutto spiegati dalla professoressa Gerardi mi sembrava di sentire anche molto Rosmini sebbene è chiaro che sui partiti avevano due idee ovviamente diverse Rosmini appartiene ancora a un'altra epoca rifiutava i partiti politici però sostanzialmente per gli stessi motivi per cui Minghetti li criticò adesso può anche essere che queste vicinanze sono dovute anche al fatto che entrambi si riferiscono molto a Tocqueville ovviamente come abbiamo sentito prima però la mia domanda sarebbe un po' di più di sapere comunque questo rapporto tra Rosmini e Minghetti che in qualche modo esiste se magari posso sapere qualcosa in più su questo e la seconda veloce domanda è soprattutto parlando dell'amministrazione il professor Granieri qualche volta è venuto in mente un po' che anche ovviamente un po' di anni dopo Max Weber era un grande teoreta di questo problema del diritto pubblico società amministrazione ovviamente una posizione molto diversa quella di Minghetti ma è avvenuto in Italia in un certo senso un dibattito critico in cui ovviamente quando scriveva Weber si trattava o si cercava un confronto proprio magari anche per rilevare la validità del pensiero dello stesso Minghetti questo sarebbero le mie due brevi domande grazie mille Lorenzo per questa possibilità grazie Marcus vediamo velocemente a un'ulteriore domanda di un amico comune professor Galli è collegato con l'iPad del Paglia puoi immaginare chi sia e quindi Giancarlo Pagliaveni voleva assolutamente intervenire e ci segue con attenzione ci stavamo messaggiando in questo momento col Paglia ci segue con la costanza e attenzione e quindi quando ho detto c'è Galli devo intervenire dico la verità io tutti i lunedì sono qui perché questi incontri dell'Odio Liberale mi piacciono il mondo questa sera c'è il Galli di Obono quindi Galli una cosa te l'ho già chiesta mi piace la tua risposta a tutti ma aveva lì la costituzione svizzera appena riscritta nel maggio del 1874 ed era una persona intelligente come è possibile che non l'abbia considerata tu che hai letto tutto non l'hai nemmeno citata mi sembra impossibile ecco poi seconda domanda al volo tu hai parlato hai parlato del clima del tempo di Minghetti no? e allora un po' di fantascienza Minghetti se oggi fosse qui se il Marco fosse qui oggi con il clima di oggi secondo te cosa direbbe cosa scriverebbe? ciao grazie allora credo che cominciamo non so il professor Galli se vuole facciamo il contrario così almeno no facciamolo professoressa Gherardi perfetto professoressa no 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 a lei prego prego allora comincio visto che aveva accennato solo appunto forse anche alle ragioni dell'insuccesso novecentesco fino ad oggi di Minghetti cioè come grande pensatore politico perché certo noi insegniamo storie del pensiero politico Galli io Carlo ci occupiamo di sistema politico italiano eccetera però cioè è incomparabile il ruolo che dovrebbe avere Minghetti oggi nell'intelligenza italiana almeno italiana se non europea per le ragioni del perché nel dimenticatoio Minghetti allora credo che sia interessante per voi sapere che cosa diceva Nicola Matteucci su questo quali erano le ragioni del del fatto di perché perché l'insuccesso novecentesco ovviamente Matteucci è morto nel 2006 secondo Nicola Matteucci all'interno della galassia del pensiero liberale lui vedeva la polarità spaventa Minghetti e sosteneva che per come fatti il sistema politico italiano allora c'è una preferenza sarebbe stata una preferenza successiva naturalmente per per spaventa piuttosto che per Minghetti per l'anima statalista di di spaventa mentre invece e Matteucci diceva anche praticamente spaventa un meridionale quindi più portato più portato all'accentuazione del ruolo positivo dello Stato Minghetti settentrionale portato invece a valorizzare la società civile e quindi questo però questo e naturalmente poi il fatto che il liberalismo pensatori liberali naturalmente non avessero negli ultimi decenni del novecento tutto questo spazio era dovuto a Matteucci secondo Matteucci alla prevalenza della cultura cattolica socialista comunista e il fatto che il liberalismo fosse un po' secondario non so questa era la tesi di Nicola per quel che riguarda a me sposterei il discorso invece proprio più interno sul mondo Minghettiano sul liberalismo Minghettiano per dire delle ragioni a sua volta del fatto che nonostante noi tutti stasera ci siamo occupati di dire giustamente quanto è grande invece il perché del suo insuccesso perché è un pensatore molto complicato e che non dà sicurezza e non dà certezze è molto semplice costruire un sistema e poi fare riferimento a quel sistema con delle categorie delle categorie qualsiasi no? dopo è facile è un sistema teorico la cartina di tornasole quella e buonanotte ma invece secondo me Minghetti è il più secondo me è il più grande ma possiamo discutere comunque è il più grande esponente di un liberalismo italiano che è grande proprio in questo senso questa è la tesi che ho sostenuto in un libro dell'inizio degli anni 90 che si chiama l'arte del compromesso la politica della mediazione nell'Italia liberale che ha questo Minghetti come fulcro ma anche il pensiero liberale italiano cioè il pensiero liberale italiano non è che non sa costruire un sistema non vuole costruire un sistema questa è ben altra cosa è ben altra cosa perché non vuole costruire il sistema perché sa che l'unico modo per battere le ideologie pregiudiziali che hanno i sistemi compiuti naturalmente il socialismo il comunismo le inimico le ideologie nemiche allora bisogna batterle su un altro terreno quello della scienza delle scienze delle scienze che aiutano a fare le riforme che aiutano a salvare a salvare il sistema politico naturalmente il sistema politico è il sistema politico liberale il sistema politico liberale che è l'unico che sa accettare la sfida delle scienze e raccoglierne e metterle in circuito ecco questo questo secondo me si trova spessissimo nei discorsi parlamentari di tutti questi uomini politici minghetti in testa e allora qua arrivo proprio alla a quanto ha chiesto su rosmini il signor marcus krink ho capito il professor marcus krink si insegna lugano ah insegna lugano mi permette di far riferimento non solo a rosmini pensatore importantissimo per minghetti che non ha pregiudiziali naturalmente i suoi riferimenti non sono solo i pensatori appunto che esattamente corrispondono ai suoi modelli teorici ma naturalmente un confronto continuo con i grandi del tempo o immediatamente precedenti rosmini sicuramente perché nell'economia pubblica il titolo già dell'economia pubblica e delle sue attinenze con le morale e col diritto lui crede nei principi del liberismo ma non è chiuso su se stesso e quindi siccome la sfida viene dalla scuola storica dell'economia eh dalla scuola storica dell'economia lui studia da grande il tedesco per avere accesso direttamente ai classici dell'economia della scuola storica dell'economia Roscher Kniss e poi Wagner Schmoller eccetera no? E in naturalmente Wagner e Schmoller sono successivi ma con Roscher e Kniss precedente la prima metà del secolo e nell'economia pubblica si misura con quelli e nel congresso di Milano 75 che segnerà il il recepimento in ogni caso un dibattito direttamente con la Germania con la Germania col congresso di Eisenach dei socialisti della cattedra Minghetti viene visto anche da coloro che sono estremisti in questo senso che si schierano per la scuola storica dell'economia viene vista come maestro anche da questi ma perché? Ma perché si è confrontato anche con questi dicendo che i postulati dell'economia politica classica si devono misurare con la loro applicabilità storica e quindi anche con quel portato storico che veniva sottolineato dalla scuola storica dell'economia sempre come un maggio alla Germania noi delle volte facciamo cioè però rovesciato che è la Germania che guarda noi e noi che guardiamo loro io quando mi occupavo appunto dell'arte del compromesso soprattutto di Minghetti eccetera quindi a tappeto poi il mio riferimento è in particolare anche alla dimensione tedesca proprio perché secondo me si era molto ed è su questo che poi avevo lavorato con Matteucci a partire da questa ipotesi che avevo sottolineato era che Minghetti si sottolinea molto la sua anglofilia naturalmente i classici che abbiamo pensato che abbiamo detto prima Tocqueville eccetera però c'è anche una dimensione tedesca altrettanto importante una è la giovane sulla scuola storica dell'economia ma appunto quando lavorava a tappeto sulle riviste tedesche proprio su questa avevo trovato una rivista tedesca che è proprio il riferimento ai progetti di decentramento amministrativo aveva sottolineato che in Germania non c'era idea di quanto in Italia si fosse avanzato su questo tema e citava i progetti di Minghetti era una cosa che era uscita proprio a ridosso dei progetti di Minghetti adesso non ricordo se fosse del 62 insomma a cavallo proprio dei primi anni 60 sempre rimanendo in Germania e andando invece a Lorenz von Stein cioè al fondatore della scienza dell'amministrazione della scienza delle finanze nella quarta edizione della finanza della finance Wissenschaft quarta edizione credo che sia a cavallo fra gli anni 80 80 e 90 ma più spostati verso gli anni inizio degli anni 80 mi sembra quarta edizione della scienza delle finanze lui dice che per la prima volta in questa quarta edizione introduce un giovane stato l'Italia che è degno è degno di essere osservato e di entrare a buon diritto fra i grandi stati europei natura perché perché non si ha idea di che percorso abbia fatto l'Italia dal punto di vista finanziario è stato è stato poi invocato no il pareggio del del bilancio naturalmente quindi quindi anche qua si andava ma chiaramente lui non citava Minghetti però dice però c'era l'opera di Minghetti alle spalle se lui all'inizio degli anni 80 cita questo e dice non si ha idea di che cosa sia successo in Italia che cosa abbiano saputo costruire dal punto di vista finanziario quindi questo è un altro elemento per dire che vale anche viceversa cioè c'era anche in Germania la recensione del dibattito e della e anche della politica italiana e quindi questo questo è quanto però io ritengo che appunto sono d'accordo con Bruno Galli ovviamente e anche anch'io sono sulla sua stessa linea cioè non credo tutte le volte che si estrapola un pezzo e si dice ah l'aveva già detto Machiavelli l'aveva già detto chi insomma no il rischio dell'attualizzazione Matteucci me lo insegnava quando facevo il suo corso di storia non bisogna proprio farlo insomma di estrapolare una cosa di questo genere però che cos'è che invece il miracolo dei classici del pensiero politico il miracolo è che naturalmente ogni generazione si rivolge a loro ponendo delle domande ponendo delle domande e chiedendo e vedendo se questi aiutano a risposte naturalmente penso che lo stesso Minghetti non si sarebbe assolutamente non vorrebbe assolutamente che noi pensassimo che le sue proposte possano essere applicate in che nunco oggi perché perché il metodo che lui rivendica in gran parte è il metodo storico lui dice sempre metodo razionale più metodo storico quindi i principi di fondo però che vanno contaminati con la storia e quindi è chiaro che la storia non si ripete è chiaro che c'è la trasformazione in atto sempre e con quella trasformazione abbiamo a che fare e quelle dobbiamo esaminare però che cosa penso che io rimanga cioè quindi qui è chiaro lui stesso abbiamo detto fa questi progetti che vengono largamente recepiti anche all'estero però non li presenta perché perché è il bene come uomo politico quindi non sono d'accordo con Miglio che non ha coraggio non ha coraggio perché secondo lui secondo la sua non ci sono le condizioni dell'applicabilità in quel momento pensiamo al pericoli che lui come i liberali del tempo sottolineano sempre i rossi e i neri la fragilità dello stato unitario quindi l'età poi completare l'unità che anche questo è il problema quindi che l'unità va completata e quindi dopo il problema è quello della costruzione dello stato unitario secondo quelli che sono i postulati che questi artifici dello stato unitario volevano e quindi Minghetti certamente continuerà per tutta la vita a ribadire la via del decentramento amministrativo secondo quei canoni che Galli ha già ha elencato però sempre a puntare l'attenzione sul fatto che ci debbono essere condizioni per cui queste possono essere verificate quelli invece che rimane proprio la sfida per cui io dico mi chiamano a parlare di qualsiasi cosa io non sono un intellettuale organico sono di quelli che vengono a parlare chiamati a parlare di questo quello raramente però quando mi capita di partecipare a dibattiti così raramente non riesco a non riferirmi a Minghetti che cos'è che rimane assolutamente vivo secondo me proprio il suo metodo il suo metodo quello del del non del no a una politica degli schemi sia un'analisi politica degli schemi che a proposte politiche degli schemi certo appunto ci sono tante cose dei partiti politici che potremmo citare tante sono state giustamente citate anch'io voglio fare una citazione forse un suo errore un suo errore è la sola congettura sull'avvenire che lui che lui fa sul nei partiti politici perché naturalmente secondo la sua metodologia non può fare delle congetture sull'avvenire dice solo che certamente ci saranno delle trasformazioni e bisognerà esaminare quelle trasformazioni ma ma lui dice a un certo punto adunque sembra che nella condizione presente delle cose nella forma costituzionale più ancora nella forma parlamentare la esistenza e la vicenda dei partiti sia inevitabile dico nella condizione presente delle cose perciò che io non intendo di pronunciare qui un giudizio assoluto e perpetuo ecco quindi vedete l'analisi del presidente però ecco la congettura a me che se mi fosse però lecito far conghietture sull'avvenire direi che il progredire della scienza e della civiltà deve restringere la cerchia dei partiti ed attenuarne i dissensi impero che a mano a mano che una verità è stabilita in modo indubitato questa viene sottratta alla parte opinabile e tutti si accordano intorno ad essa così per esempio in cui si è riconosciuto non essere lecito sforzare la coscienza dell'uomo e le sue credenze dover essere sottratte all'inquisizione punitiva i delitti di religione sono stati cancellati dai codici e non è più luogo a conflitto sulla tolleranza dei culti ecco quindi gli sembra che in futuro una congettura possibile sia quella dell'attenuarsi dei dissensi fra partiti in nome di qualcosa che le scienze stesse dimostrino questo è quanto e naturalmente questa è una sfida ovviamente anche una sfida che ci lancia per l'oggi dove non mi sembra tanto che siano venute in mente l'idea che sia possibile stabilire qualcosa che riguardi la collettività nel suo insieme mi spiace sempre interrompere perché si vede l'enfasi e la passione come dire di una vita dedicata allo studio di quest'uomo ma insomma abbiamo una sorta di patto tacito con i relatori che alle 23 di solito chiudiamo quindi siccome ci sono due risposte al professor Guarnieri quindi Weber in qualche modo e poi intanto che c'è così almeno evito di fare l'ultima domanda dopo aver risposto che cosa rimane di Minghetti o perché leggerlo oggi perché consigliano a un ventenne oggi di leggere Minghetti la stessa cosa poi anticipo il professor Galli a me sempre no lei ha già risposto come il metodo io devo rispondere alla domanda del professor Kring se non sbaglio molto rapidamente perché siamo appunto un po' stiamo sforando Weber e Minghetti io non conosco personalmente letteratura sul tema però posso notare che c'è un elemento di contatto e un elemento di opposizione l'elemento di contatto è il ruolo del Parlamento cioè Weber sottolinea in maniera molto soprattutto nel suo Parlamento e governo in Germania la Germania contemporanea l'importanza del Parlamento come strumento per selezionare dei leader politici e come strumento per controllare l'amministrazione anche Weber come Minghetti è un grande ammiratore del Parlamento britannico e nel Parlamento britannico vede appunto questo duplice ruolo da un lato selezione della classe politica leader si vuole elemento carismatico e dall'altra parte nelle commissioni parlamentari lo strumento per controllare l'amministrazione il punto invece di disgiunzione è che mentre Minghetti si trova a analizzare un'amministrazione relativamente debole nei confronti del potere politico il caso di Weber è il contrario Weber si trova di fronte a un'amministrazione anche troppo forte di fronte al potere politico e ricordiamo che sta parlando sta operando in un sistema politico diverso da quello italiano perché mentre in Italia bene o male con tutti i limiti il parlamentarismo si è affermato e quindi il governo parlamentare si sta affermando si affermerà poi forse definitivamente con Giolitti ecco nel caso tedesco invece noi abbiamo ancora un regime politico un assetto costituzionale che vede il governo sganciato dalla responsabilità parlamentare il governo del Reich tedesco è un governo che è responsabile nei confronti del Kaiser non nei confronti del Parlamento e quindi si tratta di due punti diversi e quindi questo spiega anche se vogliamo gli interessi diversi dei due autori Minghetti interessato a proteggere l'amministrazione dalle ingerenze politiche Weber invece interessato a rendere l'amministrazione responsabile nei confronti della politica quindi se posso rapidamente rispondo una piccola nota prima al professor Galli che mi diceva costituente perché non una costituente nel 1861 ha ragione giustamente il regime politico il sistema politico italiano che emerge nel 1861 è radicalmente diverso da quello del Regno di Sardegna però bisogna tenere io penso che ci fosse almeno c'è un elemento che andrebbe considerato che convocare un'assemblea costituente nel caso italiano ricordava immediatamente non l'assemblea di Filadelfia ma la convenzione del 1793 e magari se proprio non la convenzione con tutti i suoi ricordi piuttosto tristi in terrore e così via ricordava semmai il fallimento dell'assemblea di Francoforte del 1848 quindi le assemblee in quel momento avevano forse poi naturalmente dietro c'era l'interesse di potere della dinastia Savoia che aveva che era la dinastia che disponeva della forza dell'apparato militare e quindi che poi alla fine si imporrà in questo in questo modo semplicemente e molto brevemente perché leggere oggi Minghetti e cosa rimane cioè molto brevemente Lapidario no Minghetti va letto il libro che va letto va rispolverato diciamo dalle librerie Minghetti è importante per questo giustizia amministrativa indipendenza della magistratura formazione degli dirigenti amministrativi la formazione è una formazione diciamo così a tutto diciamo così più ampia di quella tradizionale e questi sono elementi che ancora oggi sono importanti e quindi ancora oggi sono elementi attualmente di grande attualità in questo senso e quindi in questo senso è un libro che si può tranquillamente prendere oltretutto appunto c'è una parte comparata in cui si analizzano Francia Germania e Gran Bretagna che è anche interessante dal punto di vista della storia comparata la storia delle pubbliche amministrazioni comparate Sir Galli risposta a Pagliarini Costituzione Svizzera cosa dirà di oggi e poi perché leggere Minghetti Costituzione Svizzera lo sa probabilmente la professoressa Gerardi meglio di me però guardando all'Inghilterra non credo che fosse tanto nelle sue corde no io vorrei così rafforzare quello che diceva la professoressa Gerardi sono perfettamente d'accordo anch'io che non è il passato che illumina il presente semmai è il presente che illumina il passato cioè è oggi e con gli occhi di oggi che al passato e a Minghetti poniamo delle domande e nel pensiero di Minghetti troviamo delle risposte e allora la riflessione viene automatica avendo seguito dal punto di vista proprio della dinamica istituzionale questa costruzione del regionalismo su base burocratico statistica nella sostanza questo ha favorito la concentrazione dei grandi apparati burocratico amministrativi al centro soprattutto dal punto di vista proprio delle una concentrazione delle persone negli apparati burocratico amministrativi quando si parla dei funzionari del regno di Piemonte e Sardegna piuttosto che dei funzionari del regno di Napoli che hanno dato vita appunto a questa struttura elefantiaca probabilmente se si fosse seguita il disegno di Minghetti sulla base appunto di questa soluzione consortile che dava vita a queste sei macroregioni eccetera ci sarebbero stati degli apparati burocratico amministrativi fortemente in competizione uno con l'altro dentro queste sei macroregioni queste chiamiamole come ci viene meglio e probabilmente non ci sarebbe stata questa deriva progressiva di dittatura degli apparati burocratico amministrativi nei confronti della classe politica che è quello che è sotto gli occhi di tutti oggi insomma aveva teorizzato Weber ma è sotto gli occhi di tutti che gli apparati burocratico amministrativi sulla classe politica esercitino una vera e propria forma di dittatura che determina la morte delle istituzioni politiche perché questa è la diagnosi sono anch'io convinto che non sono d'accordo con quello che diceva il professor Miglio a proposito di Minghetti cioè che non avesse difeso con sufficiente forza il che sia stato arrendevole insomma nel tornante del 1861 concordo perfettamente con la professoressa Gherardi lì è una questione di circostanza politica insomma siamo il 13 marzo del 1861 dopo tre mesi muore Cavour che gli dava la copertura politica rispetto a questi disegni di unificazione amministrativa del regno creano la commissione Tecchio Tecchio era un acerrimo nemico di Minghetti e inevitabilmente i suoi quattro disegni di legge che poi erano diventati dieci perché ne aveva presentati altri quattro e poi altri due sull'unificazione amministrativa vanno a renarsi e finisce il grande disegno di Minghetti che cosa farebbe Minghetti oggi che equivale a dire se lo facessi lo dovessi suggerire ai giovani in questo momento secondo me Minghetti si ritirerebbe ritirerebbe su un'isola deserta a scrivere il secondo tomo dei partiti politici e l'ingerenza loro perché materiale ne avrebbe tanto soprattutto in questo momento in cui altra forma di economia non vè che l'intervento pubblico e un liberale come lui probabilmente come dire si contorce nella tomba di fronte a queste forme di interventismo come dire massiccio e di abbandono del liberismo grazie allora prima di salutare e ringraziare i nostri ospiti intanto cerco di promuovere la serata che avremo settimana prossima per conto di fondi del pensiero liberale cerchiamo anche di affrontare temi che vengono poco conosciuti e poco evidenziati quindi settimana prossima presenteremo questo libro secondo noi molto importante che si chiama i militari italiani nei laghi razzisti una resistenza senza armi 1943 1945 che è scritto da Marco Vagliano e Marco Palmieri recca sulla copertina l'immagine di Giovannino Guareschi insieme a uno degli autori Mario Vagliano la professoressa Maria Teresa Giusti e a Pietro Di Muccio che è un liberale doc da noi già stato più volte quindi credo che il tema degli internati militari meriti una valorizzazione anche da parte nostra ringrazio nell'ordine immerso il professor Stefano Bruno Galli per essere stato nuovamente con noi grazie davvero per la sua grazie a voi e buona serata grazie professor Guarnieri per essere per la prima volta venuto siamo molto felici speriamo di averlo nuovamente mi permetteranno gli altri due ospiti soprattutto la professoressa Gerardi perché credo che davvero lei ha fatto uno straordinario servizio a noi e viceversa nel senso che credo che l'abbiamo giustamente omaggiata della sua passione della sua dottrina messa nei corsi degli anni al servizio della valorizzazione di questo grande statista e questo grande pensatore quindi grazie professoressa Gerardi grazie a voi grazie infinita vi scuso l'eccessivo amore per Bilghetti che ricordo era anche grande studioso di arte e forse magari nella situazione attuale andrebbe a ristudiare ha riscritto questo volume meraviglioso su Raffaello di cui centenario ci lasciamo alle spalle forse andrebbe a studiare ancora arte chi lo sa grazie davvero a tutti grazie grazie a tutti